bella a tutti ragazzi quest'oggi vi mostrerò una breve intervista di adesania dove prende in giro il nostro marvin vettori dicendo che comunque lui si attacca ancora al single leg e che secondo lui sarà una roba simile a quella che si è vista con usman perché è quello che succede quando vai a rincontrare un avversario che hai già battuto il fight with marvin just got announced tell me about the back story how that fight i want to fight rob i wanted to fight roba i thought i seen it with calvin and all that but you know marvin was like i want to go in october romanzo i want to go in september i'm like look i'm going to june whoever wants to step up and yeah the italian stepped up so kudos to him um but yeah we already know where's the fight gonna be i don't i don't know where it is live crowd i don't know i actually don't know but kamaru just gave him a little taste a little taste of what it's like you know you you already know the person and you're like right he's you know you have their number and he's still holding on to that fucking single leg like he's holding on to that loss that's how he sleeps so proud of that loss that's how he sleeps he's holding on to that loss better than his best wins so yeah i'm in his head rank 3 camping quindi che dire ragazzi speriamo che continui a sottovalutarlo così anche quando sono sull'ottagono almeno marvin gli fa una bella sorpresa e noi ci rivediamo fra breve per parlare di mike tyson un saluto da italian fight magazine il più grande canale di mma che parla italiano